Ciao a tutti, sono Enrico J, questo è il terzo video che faccio relativo a questo conto di trading 251.40 che è intestato a me ed è un conto reale, lo stesso conto che potete vedere nei due video precedenti sempre relativi al money management. Per chi li avrà visto lo sa, lo ripeto, su questo conto è stata versata la somma di 100€ a titolo di esperimento il giorno 1 marzo e sono stati fatti questi trade che vedete, li scorro velocemente poi se volete li andrete fermando l'immagine o rallentandola a vedere per curiosità, sino agli ultimi trade appunto 20, 19, 17 di questi ultimi giorni, il deposito ovviamente è sempre stato di 100€, non ne sono stati fatti altri, ripeto il conto è 251.40, andiamo adesso a vedere lo statement stampato, eccolo 251.40, il mio conto, statement fatto oggi alle 16.54, cosa è importante vedere? Questa è la linea equity che è una linea che sicuramente è una linea sana, ovvero sia che salvo appunto alcuni periodi di drawdown è riuscita a approfittare, approfittare in maniera considerevole perché i 100€ versati inizialmente in data 1 marzo a oggi sono 404 e calcolando che questo è un conto con il regime amministrato, questo è un profitto netto, quindi già depurato dalla tassazione. Ma cos'è la cosa più importante da vedere che in totale il conto da 100 è passato a 400, cioè realizzato un 400% in neanche 7 mesi, ma con 155 operazioni. Queste 155 operazioni sono state 89 in gain e 66 in loss, ovvero sia il 57% di operazioni in gain, per cui sempre all'incirca una su due, poco più della metà in profitto. Questo cosa ci deve far capire che si possono ottenere risultati molto importanti in termini percentuali, anche facendo una operazione corretta e una sbagliata, perché all'incirca, ecco qua, 42 in loss, 57 in gain e il conto è stato quadruplicato in poco più di 7 mesi. Perché dico questo? Perché è importante gestire il trade aperto, ovvero sia le perdite vanno contenute e vanno lasciati correre i profitti. È importante non cercare di fare 8 o 9 operazioni in gain su 10, perché non ci si riesce. È importante che le operazioni in loss siano non per forza poche, ma sia a basso il loro importo. Per cui quello che è importante andare sempre a determinare è uno stop loss già predeterminato e messo in macchina e che sia sempre inferiore al possibile target. E lo stop deve essere sempre rispettato. Il target può anche non essere rispettato, perché potrebbe essere anche maggiore il guadagno se si va a togliere il target in macchina quando il prezzo raggiunge o si avvicina ad esso, al fine di lasciarlo sfogare ed andare anche oltre. potete vedere per curiosità che i trade sono stati fatti su valute, sul Bund, su delle commodities, su indice, lo Standard Pulse, Giappone, lo Stoxx. Per cui ecco è stato toccato tutto. Questo è anche proprio per dire che 155 operazioni fatte su qualunque sottostante con un money management accurato permettono, pur azzeccandone poco più di una su due, di ottenere risultati più che importanti. Per cui quando vi dicono che il money management non esiste, non è importante, con analisi tecnica non esiste, non sono importanti, vuol dire che non la conoscono, ma non la sanno fare e se hanno letto tanti libri probabilmente non li hanno capiti. Gestite bene il vostro capitale. Ciao e grazie.